Io non utilizzerò slides, la mia relazione è questa. Io sono particolarmente felice di essere qua e di continuare ad andare in giro per l'Italia e fuori Italia. Perché? Perché tutti oggi parlano di quantistica. Allora io sono felice perché essendo un laureato in fisica che poi successivamente si è laureato in medicina, per me la fisica quantistica è stato l'oggetto del mio primo interesse, il mio amore. Ma guardate un po' in questo fogliettino che ho scritto stanotte, ho messo, ma la fisica quantistica, che ruolo gioca? Allora nella medicina sicuramente, e io vi parlerò da medico della fisica quantistica. Ma guarda caso, ci sono stati dei colleghi della biologia, questo è un mio allievo, questo qui è un mio allievo, la cui tesi parla di me. Ma guardate un po', è un ingegnere che ha abbandonato l'ingegneria, pur essendo un informatico dell'IBM, e si è laureato in psicologia. Psicologia, e la sua tesi qual è? Fenomeni di fisica quantistica nella psicologia dei gruppi. Sono felice, ma sono felice anche perché in una recente conversazione mi hanno invitato dei cuochi. E io ho partecipato come medico che ha parlato di medicina quantistica, con i cuochi. Che hanno preparato piatti lì davanti a me e hanno parlato dell'emissione dei fotoni da parte delle verdure che loro, e dei piatti che loro stavano preparando. Felicissimo, perché allora si vede come la quantistica interviene nel nostro mondo. Ma io adesso entro nel vivo della questione, perché in queste qui anche l'S-Drive, di cui io concluderò poi il mio discorso, si basa sulla fisica quantistica. E allora io facendo, ho detto questo sommario qua, arrivo verso la lavagna e dico, ma quali sono le differenze tra la fisica, quella che tutti noi abbiamo studiato nelle medie superiori, e la fisica quantistica che è stata la vera rivoluzione, e c'è una differenza enorme, e la differenza enorme la vediamo da medico nell'interno del corpo umano. Allora voi dovete tenere presente tre cose, queste qui sono veramente delle cose che voi dovete mettere nel cervello. Allora, la prima cosa, noi parliamo sempre di Einstein, anche Giorgio ha messo la fotografia di Einstein, ma Einstein è la persona più nota. Ci sono state persone dietro ad Einstein, che forse non hanno avuto quel rilievo che ha avuto Einstein. Ma è stato il gruppo dei fisici che ha inventato la fisica quantistica. E quali sono i tre concetti fondamentali che dovete prendere ben nota? La massa è una forma di energia. Cosa avete detto? La massa è una forma di energia. Ovvero l'energia è una forma di massa. Allora vuol dire che quando io parlo di massa, eh, massa, eccola qua, ah, ecco, è questa, l'ha preso da me. E vedi, io non porto le slice, le porta a lui, eh, vabbè, allora tu mi freghi. Allora, l'energia è una forma di massa? Vuol dire che quello che io tocco, quello che io prendo, eccolo qui, questo, che è massa, perché se io lo lascio cadere, va giù. Ovvero, è legato alla forza peso. La massa, per noi fisici vecchi, di quel tempo là, prima della fisica quantistica, la massa era legata al peso dell'oggetto e basta. Arriva il governista e dice, no, 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 è giusto, è questo principio, per carità, è giusto. Ma c'è una cosa che è molto più importante del fatto che la massa è legata al peso. E cos'è? la sua energia. La sua energia. Allora io faccio il medico e dico, ma quante masse io ho nell'interno del mio organismo? Ma quante sono? Eh, pensa al fegato, pensa al pancreas, pensa al cuore, pensa ai polmoni, ma pensa alla C1, pensa alla S1, la S2, la S3. Ah, sono tutte cose diverse, masse diverse, quindi energie diverse. E la seconda cosa importante della fisica quantistica qual è? e questo è un insegnamento per i medici. Ma la fisica classica diceva, ma se io c'è un sistema complesso, penso all'universo, ad esempio, e prendo un elemento dell'universo, lo tiro fuori, eccolo qua, e lo studio. Allora io dico, beh, la stessa cosa, io prendo il fegato, qui lo tiro fuori, me lo studio. No, 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 non va bene. Perché non va bene? Perché se facciamo questo, separiamo un oggetto che è dentro un sistema complesso, non teniamo conto dell'interazione che il sistema dà sull'oggetto. E quindi noi facciamo degli errori enormi quando facciamo la medicina spaccando l'individuo in n competenze. E certo, perché ognuno di noi guarda il proprio oggetto non tenendo conto delle interazioni che gli altri fanno sull'oggetto e che l'oggetto fa sugli altri. Ah, e la terza cosa forse è la più importante, anche se la meno nota. E qual è questa? È il vuoto. Eccolo qua, il vuoto. Il vuoto. Questo bicchiere non c'ha dentro niente, è il vuoto. No, io faccio un esempio più bello del bicchiere. L'esempio più bello del bicchiere è il vuoto può essere assimilato ad una notte buia che più buia non si può. Non vedo proprio niente. E il vuoto della fisica quantistica qual è? E il vuoto della fisica quantistica è una notte buia che più buia non si può in cui ci sono dei flash di luce. Dal vuoto nasce la luce e la luce come si esprime? Attraverso i fotoni. Ovvero quanti di energia. Ah beh, quanti di energia l'abbiamo studiati. Se vi ricordate quando il professore di chimica il professore di fisica vi ha fatto vedere la struttura di un atomo vi ha fatto vedere come citando un elettrone del sistema atomico quell'elettrone va su un orbitale che non gli compete e ovviamente un sistema eccitato per la fisica non esiste vuole ritornare nello stato che si chiama di minima energia e come fa? Se io gli ho fornito energia l'elettrone è saltato nell'orbitale di sopra per tornare a casa sua cosa deve fare? Buttare fuori energia. Sotto che forma? Fotoni. Fotoni? Ma allora vuoi dire che se io sono un sistema complesso in cui le masse sono energia vuoi dire che allora io posso emettere energia sotto forma di fotoni? Sì, avete capito bene. Sì. Emetto energia. Emetto fotoni. Ma dai non prendere in giro. Vedete i fotoni che sono dal mio corpo? Eh no, non li vedete, certo, non li vedete. Ma io devo dirvi che sono qua questa dottoressa emette energia e io non sono in grado di captarla. Però adesso io vi faccio vedere e vi dimostro che lei emette energia e ve lo faccio su un organo, no, su due organi. E allora a questo punto meno male che c'è una lavagna. Anche perché vi dirò delle cose interessanti e risponderò ad una domanda che alcuni colleghi molto acuti che lavorano in un settore di ricerca particolare ieri sera mi hanno fatto e io non ho saputo rispondere. Però stanotte un mio fotone mi ha illuminato davvero e quindi tra poco vi darò la risposta. allora se io prendessi guardate due elettrodi e lo mettiamo sul cuore della nostra dottoressa non ne metto tutti gli elettrodi necessari per fargli un elettrocardiogramma è inutile me ne bastano due per esprimere il concetto che io adesso voglio esprimere e che cosa ti danno quei due elettrodi che tu metti sul torace della dottoressa e ti danno un andamento di una corrente ah cavolo il cuore mette corrente o l'abbiamo sempre saputo non è che tiri fuori una novità assoluta certo e mette corrente a tale punto che se io la registro con un registratore voi vedete che il cardiologo ti fa l'analisi sul cuore di questa dottoressa certo e cosa va a trovare te lo disegno adesso lui mi frega perché adesso mi fa vedere il cuore eccolo qua il cuore della dottoressa hop eccolo e io mi permetto da medico di fare una diagnosi del suo cuore del comportamento del suo cuore guardando che cosa guardando l'ampiezza di questa corrente guardando la forma di questa corrente guardando che la che la corrente dà un impulso negativo qui e poi guardo una cosa fondamentale il ripeterci di questo segnale di corrente che va avanti così e il cardiologo cosa dice va a vedere la frequenza l'ha tirato fuori la frequenza e che cos'è la frequenza che cos'è la frequenza è il numero delle oscillazioni che avvengono nell'unità di tempo siccome l'unità di tempo noi la consideriamo il secondo io vado a contare sarebbe già morta la dottoressa qua se un secondo è questo il suo cuore a due herze ovvero a due battiti al secondo ma perché io faccio tutta questa cosa perché adesso faccio il fisico penno rosso e dico ma ma se il suo cuore emette corrente come il tuo cuore come il nostro cuore come il vostro cuore vuol dire che allora c'è una legge fondamentale della fisica che dice che ogni qualvolta circola corrente nasce un campo elettromagnetico e allora il suo cuore guarda utilizzo lo stesso grafico qui metto in rosso il valore del campo magnetico generato e guarda un po' cosa ti faccio e la miseria lei sta irradiandomi lei sta generando campo elettromagnetico che io non riesco a captare evidentemente non sono un sistema in grado di captare la sua energia ovvero il campo elettromagnetico prodotto dal suo cuore ah ma se ti prendo uno strumento arrivo qui adesso poi faccio uno scherzo perché ci sono delle belle cose che vi devo dire e allora se avessi un'apparecchiatura e isolassi lei perché qui dentro c'è un caos bestiale di onde qui dentro le onde dei vostri telefoni le onde radio le onde televisive le onde che provengono dal cosmo e che mi condurranno a parlarvi degli spetri di frequenza ma ci arrivo allora devo isolarla perché sennò come faccio a vedere il suo cuore ah certo se gli attacco due elettroni qui è evidente che la corrente gliela misuro pensa se io avessi un obeso no l'obeso è qua il cuore è qui l'obeso è qui io ci metto gli elettroni qua e secondo voi che cavolo di corrente misuro ammesso che ci arrivi ma se il cuore emette corrente emette campo elettromagnetico sono appaosso chi se ne frega sei un obeso lo rilevo certo devo metterla in una gabbia devo isolarmi rispetto al caos al casino di onde elettromagnetiche che ci avvolgono e che ci inducono patologie allora la isolo la metto in una gabbia io vado fuori dalla gabbia ovviamente misuro che dentro il campo dentro io sono fuori dalla gabbia misuro con un misuratore di campo se c'è campo elettromagnetico il campo magnetico nella gabbia è zero allora io sono fuori dico la dottoressa si accomodi là so qual è la sua frequenza del cuore perché guarda a caso ho l'elettrocardiogramma in mano sono fuori e guarda un po' vedo la linea rossa vedo l'andamento del campo elettromagnetico che è proprio quello che io vi ho disegnato orco lei irradia ma mi viene un problema qui che orco non so se dirvelo ma voglio dirvelo ma io faccio il medico per me il cuore è qua ma se gli misuro il cuore è da qua dov'è il suo corpo è lì è qua e se allargo la gabbia arrivo qua è la miseria trovo il suo cuore e allora c'è un problema etico dov'è il corpo dove sta il corpo ma forse bisogna chiederlo a qualche sacerdote la dimensione non è questa è quella lì è questa qui è questa qui è questa qui è quella là e se vado fuori dalla porta è quella là ma tu parli del cuore sì ho parlato del cuore perché è quello che voi conoscete ma e se ti parlo del cervello ah ritorno al cervello qui ci sono degli esperti di cervello ieri sera abbiamo fatto delle dotte discussioni sul cervello e io da fisico lo faccio anch'io e il cervello allora ci metto due elettroni al posto di mettergine dieci quindici metto due elettroni uno di riferimento e cosa mi fa il cervello ah mi fa un'onda ah un'onda ti fa sì guardala come fa questa è sempre la corrente questo è il tempo e l'emissione del cervello è questa va che meraviglia guarda in effetti non è così bella sono stato bravo a disegnarlo così non è così bella da fare così misura la sua frequenza eccola frequenza celebrale di questo piccolo parte di emisfero celebrale di destra e allora dico questa è una corrente e applico ancora la legge della fisica che dice ogni volta in circola la corrente produco campo elettromagnetico te lo faccio stavolta no no facciamolo ancora in rosso allora questo è un coracca utilizzo lo stesso grafico e guarda un po' cosa ti fa guarda il campo magnetico del cervello se il verde era quello elettrico guarda un po' guarda il magnetico è la miseria ma allora ti faccio lo stesso scherzo mi sintonizzo sono fuori dalla gabbia lei entra e a questo punto che cosa trovo che il cervello è il radio ma perché vi ho fatto tutta questa bella premessa per dire che mi pongo una domanda sul cervello sul cuore e l'abbiamo studiato abbiamo studiato neurologia ci hanno fatto un mazzo incredibile cardiologia la domanda che mi pongo è ma il fegato si mette corrente? è certo non riesco a capire che cosa butta fuori ma è certo ma il pancreas si mette corrente? è certo ma il rene si mette corrente? è certo ma la C1 si mette corrente? è certo e la S1 la S2 la S3 certo a cavolaccio ma allora io sono un generatore di campo si sono un generatore di campo e lo puoi vedere sto campo vedi come va tutto ogni volta cambio le cose e certo un generatore di campo e tu quel campo lì come potresti vedertelo te lo faccio vedere subito vengo qui con un strumento che è una specie di televisione si chiama oscilloscopio ti do in mano due elettrodi collego all'oscilloscopio se l'oscilloscopio è un oscilloscopio di larga banda si chiama è in grado di farmi vedere una porcheria bestiale che esce dalla mano destra e la mano sinistra e vabbè ma tu vai in giro con l'oscilloscopio no non me lo son portato orco giuda non me lo son portato ma qual è la finale del mio discorso ma faccio una marcia di avvicinamento lunga è il cappello ma perché il cappello è perché se tu lo strappi il cappello rappresenta direi il l'elemento biologico più facile che è in grado di aver memorizzato tutto quello che le energie espresse dal mio corpo vengono memorizzate dal cappello orco dopo devo tornare qua ricordate ah sì ma allora allora vuoi dire che noi emettiamo energie e ve l'ho dimostrato sì il rilevatore dell'energia più facile è il cappello sì ottimo allora vi faccio questo disegno e vi dico ma di un po' guardate faccio questo grafico tempo intensità che cosa avrei visto se avessi un oscilloscopio in mano e avessi collegato la mano destra e la mano sinistra sto guardando voi eh la mia mano adesso corre corre sto continuamente a guardare voi corre corre questo è quello che c'è dal cappello ma che porcata è quella lì ma che senso ha quella roba lì e io sono abituato a studiare segnali che sono molto belli vi ho fatto vedere il cuore non era bellissimo c'era un picco così poi andava giù faceva così eh vabbè ma è facilmente interpretabile il cervello è ancora meglio va è una serie di onde sinusoidali è ancora meglio bellissimo eh ma quello lì è una porcata che no è indicibile no 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 perché devo ricordarmi che sono lavorato in fisica e cosa dici di quella specie di porcheria che hai fatto come disegno ah dico che io questo disegnaccio lo posso sempre vedere come somma e adesso ve lo dimostro come somma di segnali sinusoidali a frequenza diversa guardate che questo asse del tempo può essere esattamente uguale all'asse della frequenza tempo e frequenza sono la stessa cosa o possono essere assimilabili non la stessa cosa perché non è vero ma assimilabili sì e allora io posso dirti che a questa porcata di questo picco questo picco può essere sempre visto come somme di onde sinusoidali la cui frequenza corrisponde fondamentale corrisponde a questa ah allora tu vuoi dire che un qualunque spettro che il mio cappello che il suo cappello esprime che è quello lì può essere sempre scomposto in una somma di segnali belli sinusoidali a frequenza diversa secondo il punto dello spettro che io vado a vedere come somma di segnali belli sinusoidali con una componente che noi fisici chiamiamo armonica che non è altro che la somma di frequenze che sono multiple delle frequenze fondamentali ah bene allora mi metto tranquillo riesco a codificare una porcheria come quella che io vi ho disegnato ma perché sto facendo anche qui tutto questo bel discorsone importante per dirvi guarda un po' che se questo è il riferimento che noi possiamo chiamare delle frequenze la gamma di frequenza guardate del nostro organismo è rispetto a tutta la gamma di frequenza la vedete che va da qui a qui in fondo noi siamo in questa gamma di frequenza e la miseria ma è una robina così piccola sì e se io ve lo amplifico saltano fuori tutti i colori che il nostro occhio sono in grado di rilevare che sono i colori esattamente dell'arco baleno caratterizzate ovviamente dal dal rosso rosso più intenso giallo fino all'ultravioletto e quindi la mia gamma di frequenza si chiama così si chiama gamma di frequenza del mio sistema visivo gamma di frequenza del mio apparato acustico ah ma vuol dire che allora ci sono un sacco di altre frequenze e certo ci sono un sacco di altre frequenze guarda qua queste sono frequenze che arrivano dal cosmo avrete sentito i raggi gamma avrete sentito parlare di raggi gamma avete sentito parlare di raggi x e ognuno di questi gamma ha uno spettro di frequenza che è questo se io prendo i raggi x che sono un pochettino meno intensi ha lo spettro di frequenza che è questo allora noi siamo dentro a uno spettro di frequenza incredibilmente ampio in cui il nostro corpo reagisce soltanto è in grado di captare uno spettro quello che vi ho fatto vedere lì che è limitato alla vista e all'orecchio allora mi pongo una domanda ma c'è un'azione di frequenze che provengono da altri spettri come ad esempio questi due e che vanno a incidere sulla realtà mia qual è la risposta la risposta è sì allora vuol dire che noi pur essendo abituati dentro uno spettro che vi ho detto è quello visivo è quello acustico ci sono delle induzioni da parte di altre frequenze non a caso Giordi parlava di frequenze onde elettromagnetiche eccetera radio telefonini eccetera no ha dimenticato un sacco di altre frequenze raggi gamma raggi x le frequenze che utilizziamo per trasmettere i satelliti che mandiamo intorno alla terra e queste indubbiamente inducono dei segnali di disturbo perché noi siamo dei generatori di campo elettromagnetico cuore ve l'ho dimostrato cervello ve l'ho dimostrato fegato non ve l'ho dimostrato ma prima o poi vi faccio una bella roba che vi dimostrerà il fegato cosa esce o il pancreas a cavolo voi vedete che allora è vero che la fisica quantistica gioca un ruolo sempre più importante nell'interno della biologia è vero e allora e allora biochimica è certo hanno parlato di biochimica sì hanno parlato di reazioni hanno parlato di riprogrammazione cellulare stravero anzi eccezionalmente vero ma vuoi dire che ci sono loro rapporti biochimici ma quale 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 io ho fatto un capocione così facendo la mia introduzione quale ah vuoi dire che allora tu punti verso la biofisica no per niente punto sul fatto che la biochimica è sacrosanta e tutti noi abbiamo studiato la medicina che si basa sulla biochimica tutte le reazioni che avvengono nel corpo umano sono biochimiche vero però nessuno ci è domandato come mai queste reazioni biochimiche che avvengono al momento giusto al tempo giusto per fare la reazione giusta chi cavolo è che li governa chi è il regista Gesù Cristo sì può essere ma noi siamo miliardi di persone su questa terra e le reazioni biochimiche che avvengono in tempo di frazioni di millesimo di secondo arrivano arrivano le reazioni con una velocità enorme viaggiano alla velocità della luce le reazioni e allora chi è il regista Gesù Cristo no non ce la fa perché siamo tanti miliardi avvengono tanti miliardi di reazioni nel corpo umano quindi non è possibile anche se a lui è concesso tutto è possibile tutto ma ci deve essere un regista e se sbaglia la regia arriva la patologia arriva la malattia e chi può essere il regista arriva il mio amore mi dai un goccio d'acqua che se no il mio amore va via è l'acqua è l'acqua sì è il mio amore è l'acqua l'acqua del corpo umano ma chi dei medici parla dell'acqua del corpo umano avete mai sentito nelle reazioni di medicina parlare dell'acqua del corpo umano ma quando mai ma quando mai c'è l'acqua perché se no non ce la faccio acqua H2O idrogeno sì ossigeno sì due elementi fondamentali del corpo sì sì di peso siamo di acqua al 70% e se conti le molecole H2O quante sono rispetto a tutte le altre molecole di cui sentirete parlare avete già sentito parlare quanti sono eh l'acqua rappresenta il 99% cosa hai detto 99% quanto c'è allora finisco subito vado allora allora sì allora ce la faccio no non ce la faccio ma cerco di farci allora cosa succede l'acqua l'idrogeno ossigeno due atomi forma una molecola due atomi che si mettono due idrogeni e un ossigeno forma una molecola ma l'acqua che gioco ruola che ruolo gioca nel nella parte direi dell'incontro delle molecole che avvengono per fare la reazione giusta ma vuol dire che è l'acqua sì l'ha detto uno che ha preso il Nobel ma non perché l'ha dimostrata l'abbiamo dimostrata dopo noi fisici dopo di lui ma lui ha ipotizzato ha preso il Nobel 1937 un certo Georgi ungherese 1937 e lui da biologo intelligente dice ma cavolo ma ma la biologia avviene sì le reazioni avvengono ma ma ci deve essere qualcosa che fa incontrare A con Z perché A incontra B C D E F G e dice no tu non mi piaci tu non mi piaci tu non mi piaci tu non mi piaci tu mi piaci finalmente incontra Z ma quanto cacchio di tempo ci impiega A per incontrare Z è l'acqua allora che ruolo gioca lui ha ipotizzato che l'acqua gioca il ruolo di fare incontrare per risonanza lui non aveva utilizzato questa parola attrazione A con Z ci deve essere un'attrazione e chi fa incontrare A a Z velocemente ad una velocità pari a quella della luce lui ha ipotizzato campo elettromagnetico ha vinto abbiamo vinto noi aveva ragione era un'ipotesi giusta corretta e come fai? allora vi faccio l'imitazione l'acqua A oscilla con la sua frequenza eccola qua vedete sono io che faccio l'acqua e se A incontra Z cosa vuol dire? vuol dire che A oscilla all'incirca devo dire da fisico dovrei spaccare il cappello in quattro ma diciamo che A se oscilla la frequenza dell'acqua e Z oscilla con la stessa frequenza non è vero ma dovrei farvi una lezione di fisica quindi non voglio farlo avviene immediatamente con una velocità pari a quella della luce l'incontro tra A e Z allora qualcuno di voi potrebbe domandarsi bene caro Spaggiari allora vuol dire che nel nostro corpo avviene solo la reazione a Z e no perché? perché nel momento in cui A incontra Z ovviamente fornisce all'acqua la reazione biochimica che è vi dicevo sacrosanta energia all'acqua per cui l'acqua che oscilla va così a causa della reazione a Z adesso oscilla così e quindi cosa farà? Sarà in grado di far incontrare altre molecole che oscillano esattamente con la nuova frequenza dell'acqua ecco dimostrato come la biofisica aiuta a spiegare i processi biochimici che generalmente i medici e i biochimici ovviamente non sapevano e adesso arrivo all'assadrive visto che non ho più tempo ah no vi devo dire una premessa per arrivare all'assadrive e per spiegarvela poi lo vedrete praticamente ma come hanno parlato del DNA tutti poi sentirete il mio amico Burgio cosa dirà del DNA ma il DNA è una doppia elica sì signore lo sanno tutti il collegamento tra la doppia elica quella di sopra e quella di sotto come avviene? sì attraverso delle proteine benissimo ma da fisico tu un sistema del genere una doppia elica come la puoi tradurre dal punto di vista fisico? ve lo dico io come un circuito oscillante è un circuito oscillante da cosa è formato? no guarda è molto facile un circuito oscillante è formato da un filo avvolto guarda eccolo qua prendetevi un pezzo di filo avvolgetelo a spirale così questa la chiamerò L che si chiamerà dal punto di vista fisico induttanza e poi qui c'è l'altro filo che collega due piastre la prima la prima e la seconda eccolo qua questo lo chiamerò condensatore il dna si comporta come un circuito oscillante e cosa vuoi dire? il circuito oscillante cos'è? è in grado di emettere frequenza quindi il dna vi ho già messo in indirizzo emette frequenza e la frequenza com'è? fregatemi delle formule ma io devo metterlo perché devo ricordarmi che sono un fisico eccolo la frequenza emessa da un circuito oscillante è legato al valore di questo filo avvolto e da delle piastre e ma scusa e se io sposto le piastre toh queste sono le piastre e se io l'allontano cambia c e se io l'avvicino cambia c e quindi cambia la frequenza ecco allora cosa succede che noi siamo in grado di ricevere una gamma di frequenze e guarda caso in funzione del valore che il dna esprime attraverso questo circuito oscillante adesso vi faccio uno scherzo ma se io sono la bobina guarda qua la bobina eccola la mano destra il filo la mano sinistra il braccio sinistro il filo ecco ho fatto un circuito oscillante attenzione allora io allontano la mia mano destra vado così e arrivo qua allontano la mano sinistra arrivo qui e arrivo la mia mano sinistra il condensatore è lì e l'altro condensatore è qui per terra il circuito è l'antenne ovvero è in grado di ricevere di trasmettere segnali dall'interno verso l'esterno o dall'esterno o dall'esterno verso l'esterno il circuito il filante è sempre in grado di filare facendo da ricevitore di segnale e da emettitore di segnale ma allora vi ho spiegato perché e poi do la risposta loro che è dello sterno guarda un po' guarda come è fatto l'esterno un filo adesso mi 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 faccio vedere esattamente guarda guarda la bobina oh eccolo qua e quello cos'è? esattamente quello che vi ho vedete allora io spravo il capello te lo metto qua nasce lo spettro riesco a lo spettro avete visto che è un andamento continuo lo traduco in punti questo si chiama trasformazione da analogica digitale lo memorizzo nel computer via internet lo mando in un centro che può essere lontano anche dall'altra parte del mondo ma io lo mando in Germania e in Germania cosa fai? in Germania analizzano i milioni di spettri che hanno memorizzati nell'interno di questo computer megagalattico e tiro fuori esattamente le componenti che sono quelle che vi ho raccontato che sono sinusoidi allora ti dico non è una diagnosi giustamente come diceva Giorgio ma è predittiva ti dice mancanza o carenza di viattimine ti dice che c'è un inquinamento di onde elettromagnetiche quali? ti dico i telefonini ti dico l'alta frequenza ti dico altre cose allora è predittivo importante e rispondo ai miei due colleghi che mi hanno posto la domanda alla quale io l'altra sera non sono riuscito a rispondere e concludo con questo così saranno soddisfatti allora torno ai miei bellissimi disegni che sono un'opera d'arte e devo dire la domanda era ma perché se io metto un altro elemento rilevatore di spettro del mio corpo e loro cosa hanno scelto visto che sono degli andrologi hanno scelto lo sperma e la domanda è ma perché non c'è corrispondenza reale tra un elemento biologico che è il capello che ti dà quello spettro e il mio spettro uscito dal liquido seminale punto di domanda ecco la risposta di stanotte eccola qua che mentre il cappello mentre il cappello ti dà questa risposta che è uno spettro complessivo se io prendo un altro tracciante che può essere può essere la saliva può essere lo sperma può essere tutto quel cavolo che volete io parzializzo lo spettro quindi avrò qualche cosa in comune potrei avere qualcosa in comune perché quello spettro lì è più riduttivo rispetto allo spettro del cappello quindi qualcosa di in comune c'ho ma non c'ho tutto lo spettro ecco la dimostrazione per il quale tu non hai voi non avete esattamente la corrispondenza reale tra cappello e spettro basta arrivederci grazie grazie grazie